Ho visto le fiamme che si alzava su, ogni tanto un botto e una fiammata alta fino ad arriva su in cima al pino. Ha dato fuoco a tutto quanto lì dietro. Mia figlia ha sentito qualcuno che correva lì giù per le scale. Tuna che sono uscito, ho visto subito il fumo, perché se no se fosse uscito un quarto giorno dopo probabilmente avremmo raccontato un'altra realtà, cioè che piava a fuoco mezzo parco. Sono le voci scosse e preoccupate di via dell'ospizio nel centro storico di Ancona dove la parte alta del capoluogo incontra il parco del Cardeto. Lo scoppio notturno, lunedì, ha terrorizzato il quartiere dove aleggia l'ombra del piromane o della vendetta consumata con il fuoco. Lo confermano alcuni che avrebbero sentito i passi di una fuga dopo lo scoppio. È quella del lato doloso, infatti, la pista più accreditata per l'incendio di Vampato nel tardo pomeriggio e che ha distrutto le auto dell'avvocato anconetano Roberto Berti, di 66 anni. L'area dove erano parcheggiati i mezzi sotto una tettoia andata completamente distrutta è stata apposta sotto sequestro a seguito delle indagini della Polizia Giudiziaria dei Vigili Urbani di Ancona guidati dal comandante Marco Cagliotti. Al momento non sarebbero state trovate taniche o materiale infiammabile nelle vicinanze, ma saranno i rilievi della Polizia Scientifica a dare un quadro più chiaro della situazione. La prima a prendere fuoco sarebbe stata l'auto personale dell'avvocato, una BMW X6 Bianca. Poi le fiamme hanno divorato anche l'auto della moglie, una Mercedes classe A. Un avvertimento, un dispetto, una vendetta, forse legata all'attività professionale del legale, molto conosciuto in città, forse un ride messo a segno da chi potrebbe conoscere gli orari, le abitudini della zona, ristretta e solitaria. Grazie a tutti.